Cari lettori di pianetasmart.it, cari amici delle recensioni di Guerzo86, guardate cosa abbiamo oggi qua, Sony Xperia X Compact, finalmente, è tornato il degno rede di Z3 Compact. Ve lo ricordate nelle mie video recensioni come ve l'ho parlato, come l'ho ottenuto veramente tanto quel telefono? Beh, Z5 Compact non l'ho neanche recensito perché onestamente non meritava neanche l'accensione della videocamera, visto tutti i problemi che aveva quel telefono. Dalla mattina alle 8 sono arrivato a mezzogiorno, il cellulare era già scarico, era rovente in tasca, l'ho venduto veramente in mezza giornata. Lui, a parte il colore bellissimo, a parte le caratteristiche tecniche che ci sono tutte, beh, ragazzi, finalmente è tornato il Compact, quindi facciamo partire la sigla. E allora sì ragazzi, è veramente tornato il Compact, allora andiamo a levarlo dalla tasca, eccolo qua, colorazione azzurra, l'ho visto a Berlino, a IFA, l'ho veramente provato, in quei piccoli frangenti, ma non è come utilizzarlo quotidianamente. Il telefono è assolutamente, anzi, partiamo da un altro presupposto, partiamo da quello che per me è il Compact, è davvero il telefono per antonomasia, è davvero il piccolino, il compatto. Quello che in ogni frangente davvero mi fa assaporare il rivedere finalmente un cellulare compatto, ormai siamo nell'era dei padelloni. Chi è rimasto? Sony con il Compact, è rimasto Apple con iPhone 7, poi nient'altro di più, c'è veramente poco. Sì, Zook, vabbè, Lenovo ha messo Zook Z2, però l'andazzo, o meglio, il far proseguire il mercato su una fascia di cellulare da 5.5 pollici in su, ormai è quotidianità, ormai è banalità. Qui invece si rinventa finalmente un cellulare compatto. Ovviamente non ha caratteristiche da, non lo so, top di gamma, parliamo di uno Snapdragon, il 650, parliamo di un display che è addirittura in risoluzione. Quanto, Guertz? HD, accidenti! Quindi non abbiamo un Full HD, non abbiamo un 2K, non abbiamo un QHD, abbiamo solamente un display HD. Beh, sì ragazzi, però sono 4.6 pollici e se è solo in questo frangente, ovvero andare veramente vicino al telefono, riesco a notare un qualche pixel sull'icona WhatsApp. Poi per il resto è un cellulare che fa della compattezza, fa della piccolezza, della portabilità, il suo punto di forza, perché si mette in tasca, eccolo qua, l'ho inserito nella tasca dei pantaloni. Quindi, avevo messo il compact, ah sì, eccolo. Cioè, ragazzi, veramente, lato estetico, lato proprio quello che vediamo nel compattino. È un cellulare, secondo me, bellissimo, costruito bene. Sì, sono plastiche, non è niente di eccezionale. Non è come Z5 Compact, che forse era costruito anche in maniera, non so, quasi perfetta, come anche Z5, però non andava bene. Quindi preferisco avere delle plastiche, preferisco magari, ecco, non aver niente di stravolgente, però avere un cellulare che è fantastico. Io, forse sarà una recensione troppo di parte, forse sarà una recensione un pelino fatta col cuore, però sono le mie impressioni, sono quello che io ho provato in questa settimana di utilizzo. Allora, però non ha tutti i punti di forza, ovvero c'è anche qualche punto di domanda, qualche cosa che vi voglio proprio approfondire in questa video recensione. Allora, parliamo di ricezione barra parte telefonica. Allora, la ricezione, secondo me, Sony è sempre un pelino sotto altri competitors. Mi viene in mente, non lo so, Huawei, per esempio, Huawei prende molto meglio nei suoi telefoni con P9, P9 Lite, con anche Honor, cioè la ricezione di quei modelli è, secondo me, superiore rispetto a Sony. Sony, quando sei nell'incertezza, quando sei nella tacchettina di segnale che potrebbe rimanere nella tacchettina e mezzo, lui non da rete. Quindi, lato proprio ricezione telefonica, io sapete bene che tutti i Sony li reputo sempre nella media, quindi niente di entusiasmante, niente di eclatante. L'audio in capsula, l'interlocutore, ci sentano tutti bene, nessun tipo di problema, anche l'audio non è abattato, è cristallino, limpido e pulito. Quindi, audio in capsula, assolutamente promosso. Poi, per quanto riguarda lo speakerino, lo speakerino, anzi, i due speakerini, perché qui chiaramente abbiamo audio stereo, facciamo subito partire il nostro classico Spotify, andando a prendere una canzone a caso, tanto non c'è nessun tipo di problema. Andiamo ad alzare un pelino il volume. Beh, se mi parte Spotify con questo classico... Beh, una canzone... Allora, avete sentito l'audio? Allora, è un audio stereo, esce dalla parte superiore, esce dalla parte inferiore, come, per esempio, adesso anche l'iPhone 7 e iBara 7 Plus. E, ecco, qui c'è il primo punto. Avete sentito, però, una considerazione da fare. Come anche le cuffie che io ho di Sony, che sono lì, ora vabbè, non le vedete, quando si parla di audio in Sony funziona così. Allora, vabbè, a parte il fatto che quando inseriamo il jack delle cuffie con quelle cuffie, cioè con tutte le cuffie iRES di Sony, cioè qui godete veramente in maniera incredibile, l'audio è spettacolare, ci sono anche proprio delle impostazioni, lo fate vedere sulle recensioni di Guerzo86, la pagina Facebook, dove potete addirittura migliorare il suono. Il suono che esce è un suono pulito, limpido, cristallino, cioè nei Sony non sentirete mai un audio che è sparato, ma c'è un bilanciamento davvero di tutte le tonalità sonore e anche in questo telefono è così. Cioè, avete sentito? Si usa un decolplay, si sente la chitarra, si sente la voce, si sente il sottofondo, è una canzone live, è una canzone dal vivo, quindi è normale e tutte le tonalità sono nel punto giusto. Questa è una peculiarità dell'audio di Sony. Se parliamo anche di batteria, la batteria su questo dispositivo non è una batteria da quanto Guerze? 5000 mAh? No, ragazzi, 2700 mAh. Questo uno mi dirà, no, cazzo, 2700 mAh, quanto dura, quanto arriva a sera. Allora, ieri, giornata tipo, cioè l'ho staccato dall'USB tipo C che abbiamo su questo cellulare, alle 8 di mattina, bene, all'una di notte ho detto, caro Compact, io ti lascio da una parte perché voglio andare a dormire. 40% alle una di notte con 4 ore di display. Allora, trovatemi un cellulare con una batteria da 2700 mAh che mi arriva alle una di notte, dall'otto di mattina con un utilizzo misto, ovvero Wi-Fi quando ero in negozio, ovvero 3G quando sono in giro, circa 45 minuti di chiamate, 4 ore di display, tutte le notifiche attive e bentornato Compact. Sì, perché Z3 Compact, come anche Z3, erano i leader indiscussi dell'autonomia di quel mercato, finalmente dopo un anno di niente, perché Z5, Z5 Premium, barra Z5 Compact, vi ripeto, sono da scaffale. Quindi, bentornato, assolutamente Compact. Se, come me, anche voi siete d'accordo, vi segnalo anche il canale YouTube di Experience Italia dove ci sono Andrea Lorenzo che avete conosciuto tramite video-vlog di IFA 2016 di Berlino. Il loro canale parla solamente di Sony, quindi se anche voi strizzate l'occhio alla casa giapponese vi invito a iscrivervi al loro canale e vi lascerò proprio il link in descrizione. Questa autonomia, questa autonomia spettacolare in queste settimane di utilizzo è grazie anche al display. Display HD è un display che ha una luminosità davvero altissima ma consuma niente. Se noi andiamo a vedere un grafico di quanto ha consumato il display su 4 ore di display ha consumato 300 mAh della batteria. Capite bene che non consuma davvero niente e questo è uno dei punti di forza di questo Compact. Un punto a sfavore, e sì, qui lo dobbiamo dire, un punto a sfavore, beh, cara Sony, te sei secondo me la regina dell'IP68. Ormai la montavi già in tanti telefoni vecchi, insomma l'impermeabilità è una delle caratteristiche di Compact, di Sony, di Z3, di tutti i tuoi telefoni. Beh, su X Compact perdiamo purtroppo, dico purtroppo, l'impermeabilità. Magari, ecco, io non ne sentivo la necessità perché comunque non ho mai portato un cellulare sotto la doccia. Cacchio, spendo 450 euro, lo porto sotto la doccia. Sì, ok, IP68 potrei metterlo, però ragazzi io ho paura, cioè onestamente ho paura. Sì, ok, me lo mandi per testarlo, allora ok, lo porto anche in doccia. Ma se lo scuccio il grano, 450 euro, mi scoccia un attimino buttarlo in doccia. Quindi onestamente non l'ho mai fatto. Quindi perdiamo su questo dispositivo qua l'impermeabilità. E questo, beh, ai fan Sony dispiace, dispiace tanto. Perdiamo, secondo me, anzi guadagniamo, a mio avviso, gli sportellini via. Cioè, c'è solo lo sportellino per la SIM nano barra microSD per espandere la memoria e il sistema che è da 32 giga con circa 27 liberi all'avvio. Quindi, vabbè, secondo me ci sta. Ci può stare, però ecco, è uno dei punti a sfavore del compactino. Poi un'altra cosa che secondo me c'è da lavorare ancora, e questo lo dico sempre quando provo un cellulare Sony, è la fotocamera. Vabbè, l'apertura della fotocamera stessa è spettacolare, guardate, cioè velocissimo, tasto, il tasto è meraviglioso. Com'è meraviglioso anche questo, ovvero sbloccare talmente in pronta digitale che in un primo impatto, in primo giorno e mezzo, mi sono trovato malissimo, dopo si è ripreso alla grande. Guardate, doppio tap per spengere il display, doppio tap per riavviarlo, ora io l'ho staccato ma si può tranquillamente attivare. Quindi, ecco, la multimedità anche di Sony con il tasto doppia corsa, guardate, per aprire la fotocamera. Tic, già aperta. Quindi velocissima, rapidissima. La fotocamera 23 megapixel, targata chiaramente Sony, autofocus laser, ci sono 5 assi per la stabilizzazione nei video. Allora, lato video io non parlo perché va benissimo, cioè 60 frame al secondo, full HD, 5 assi per la stabilizzazione. È davvero la riproduzione sia dei video tramite l'Xreality, engine, di Sony, quindi si può tranquillamente anche andare a mettere la modalità super vivid. Insomma, sono delle tarature del display che ci permettono di usufruire dei contenuti multimediali in maniera ottimale. Lato proprio, foto? Mmm, ni. Allora, si può tranquillamente salvare su microSD esterna. C'è, secondo me, la possibilità di utilizzare un manuale in maniera fantastica perché è proprio quella la modalità che, secondo me, rende merito alla fotocamera di Sony. Però, cara Sony, cioè, devi anche capire una cosa. Allora, chi mi prende un iPhone, per esempio l'abbiamo qua, eccolo qua. Chi mi va a prendere l'iPhone 7, va ad aprire la fotocamera, va a scattare in automatico, la foto viene bene, assolutamente nessun tipo di problemi. Eh, bella, risoluzione, buona, cacca comu, guarda che foto. Se vado ad aprire la tua fotocamera in modalità automatico, mmm, ti dico ni. Allora, soprattutto quando c'è il calare del sole, quando si può, per esempio, una stanza di sera, cioè, vai a impastare troppo. Proprio c'è troppo rumore nelle tue foto, cosa che in automatico, in manuale non avviene. Secondo me andrebbe gestito un pelino meglio la modalità automatica. Perché? Perché ormai, cioè, quando dobbiamo scattare una foto al volo, non ci mettiamo lì a, a Firenze si dice a sfruzzicare sul manuale, nel senso a mettersi lì, allora mi imposto il manuale, mi imposto l'ISO, mi imposto la qualità, cioè, no. Ormai le foto sono assolutamente automatiche, pronte, via, già non scattiamo nemmeno più con le macchine fotografiche, non ce le portiamo più dietro. Abbiamo il cellulare, quindi vogliamo, cioè, una prontezza dello scatto ci deve essere. E qui, secondo me, Sony, c'è da lavorarci meglio. Però, cioè, vi faccio vedere le foto. Andate sul sito pianetasmart.it, c'è la recensione di Andrea completa scritta, e troverete anche gli scatti che ho eseguito, sia in modalità automatica che in modalità manuale, con HDR senza, e lì capirete, insomma, le piccole differenze che in un video tanto non rende. Vi scaricate il file originale su Flickr e tranquillamente ve le guardate, ve le osservate da voi. Poi, lato prestazioni, lato proprio come si muove l'interfaccia, l'interfaccia Sony, ormai, vabbè, la conosciamo, ragazzi, non mi dilungo più di tanto. Qui tutto va in maniera fluidissima, mai un impuntamento, mai un delay, mai un'incertezza, e questo è grazie al processore. RAM, ottimizzazione software, abbiamo Android in versione Marshmallow, 6.0.1, 3 GB di RAM, ma non c'è 4 GB. Sì, ma cosa vi servono 4 GB di RAM, ragazzi? Ora, io capisco tutto, però veramente cosa vi servono 4 GB di RAM quando su 3 GB funziona tutto al meglio? E come XZ? XZ è 3 GB di RAM, scaffale. Cioè, 8.20 con 3 GB non va. Ma cosa non va? Cioè, ragioniamo un attimino. Qui c'è uno Snapdragon che non consuma niente. Beh, Sony cosa ha fatto? Non ha messo finalmente un processore come mettere l'8.10 su un compact. E quindi, questo non brucia mai, non scalda mai, in nessuna condizione. Cioè, in nessuna condizione quotidiana, lui, lui, davvero è tiepidissimo. Temperature 28, 27, 26 gradi, massimo 30 quando vado a giocare. Cioè, perfetto. Infatti, la batteria, vi dicevo prima, è spettacolare. È assolutamente un cellulare che punta all'autonomia, punta alla compattezza, punta ad essere un telefono. Come ai vecchi tempi, ovvero multimedialità, social, Facebook, Whatsapp, Telegram. Me lo metto in tasca, non lo sento e vado. Cioè, ecco la genialata, ecco l'intelligenza di Sony nel finalmente riproporre un compact. Con un design, io vi farei vedere, non riesco dal video perché non si riesce a fare... Dovete... Vedete a casa mia, ragazzi. Vi invito tutti quanti a casa mia. Facciamo una bella cena e vi faccio vedere il compact. Vi faccio vedere come sembra che il display veramente entri dentro la scocchettina. Cioè, è uno spettacolo. E questa è una cosa che va vista solamente ed esclusivamente dal vivo. Dovete essere voi ad osservare questa cosa. Beh, ragazzi, io... Che vi devo dire? Che vi devo dire? Il compact è tornato. Quindi, se avete amato, come me, Z3 Compact, se volete un cellulare compatto, se volete un telefono, costa 4,49€ al lancio. USB tipo C, ottimo audio, ottima batteria, ottimo audio in capsula. Insomma, ragazzi, che video di Compact è tornato. Fate le vostre considerazioni personali. Io vi aspetto, come al solito, box dei commenti, chiacchieriamo insieme, tutti i vari social, pianetasmart.it, ragazzi. Mi raccomando, seguiteci anche sul sito e, come sempre, ci sentiamo. Nei prossimi video. Ciao!